Cesare Cagliarducci Ben trovato, buonasera a te Eccola, nasce una delle grandi iniziative di questa stagione La prima Coppa al Vinile Esatto, Coppa al Vinile Abbiamo organizzato questo splendido torneo di FIFA 14 Vedo che i ragazzi sono tanti Si stanno anche divertendo Ancora stanno scaldando il campo Quindi speriamo che vada tutto bene C'è una grande partecipazione e una grande organizzazione tra l'altro Devo dire, siete stati veramente grandi anche voi Importante lo scopo aggregativo Cosa pensi anche a livello di promozioni future Inerenti a questo tipo di attività del centro ludico della Broca Sport? Io credo che sia veramente un'iniziativa grandiosa soprattutto per i ragazzi Perché alla fine abbiamo messo insieme con poco veramente tantissimi ragazzi Che coltivano la stessa passione Quindi mi sembra una cosa bella e tra l'altro funzionale Quindi diamo appuntamento già alle prossime iniziative Speriamo il prima possibile di organizzare un ritorno Un ringraziamento per qualcuno in particolare Sicuramente a voi, a tutti quanti i ragazzi, a Davide, Iuri A te medesimo Va bene, grazie, un bocca al lupo